Finalmente i Cobas hanno incontrato il sindaco, dopo i tentativi vani quelli dei giorni scorsi sfociati anche nel blocco del ponte Girevole. Ora una delegazione ha avuto un lungo colloquio con il primo cittadino Ezio Stefano. La valutazione complessiva è stata positiva da parte dei Cobas a fronte di una dimostrata disponibilità ed apertura ad affrontare i problemi più urgenti. Il primo, quello relativo agli apparti per i lavori della bonifica ambientale, verrà affrontato in un consiglio monotematico da convocare entro i prossimi 15 giorni. Il sindaco ha garantito che una quota di appalti dovrà essere assicurata ai disoccupati organizzati, anche sottoponendo la questione al governo regionale centrale. Stesse rassicurazioni per l'espletamento dei lavori pubblici di somma urgenza. Anche in questo caso Stefano, consultati i dirigenti dei vari settori, chiederà di assegnare una quota ai disoccupati. Di più difficile soluzione il problema dei corsi di formazione professionale retribuiti richiesti dai Cobas. L'assessore regionale al ramo, Alba Sasso, ha detto chiaramente che i fondi sono esauriti e per quest'anno in corso non se ne parla neanche. A quel punto i Cobas hanno proposto, cercando un punto d'incontro, che la formazione professionale possa essere finanziata dall'assessorato regionale all'ambiente, il settore che, di fatto, è maggiormente interessato alla questione.